Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote due, due aranze ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto tu lo sai, diventare quel che sei, che importa tanto tu non me lo dirai purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde è noi Amici di Varesotto, ciao a tutti, stasera ci troviamo nel comune di Coveglio presso la Sala Berti, con me c'è la vicepresidente, la signora Teresina della lega contro i tumori della delegazione della Valcuvia buonasera signora Teresina, cosa ci dice? Buonasera a lei, buonasera a voi grazie di questa manifestazione che andremo a vedere io sono la vicepresidente della delegazione della Valcuvia dove abbiamo due ambulatori, senologico e dermatologico e dedichiamo parte delle nostre serate perché abbiamo fatto un progetto, una delle nostre ragazze ha avuto da una signora americana il progetto di questo cuore che sembra solo un cuore, mentre è oltre il nostro cuore che mettiamo nel farli, è un cuore che mettendolo sotto le ascelle alle operate al seno, toglie tanto dolore perché le operate al seno hanno tutti i punti sotto le ascelle come se avessero una cerniera e questa cosa fa molto male di conseguenza questo li aiuta a chi l'abbiamo dato noi lo offriamo offriamo noi della delegazione della Valcuvia all'ospedale di Varese, all'ospedale di Cittilio e a qualcuno che serve una cosa del genere il nostro cuore, fatto a cuore con il cuore per portare via un po' di dolore a chi soffre grazie signora Teresina quindi amiche sapete che qui potete trovare delle persone fantastiche tutti i volontari che vi potranno aiutare in questo difficile cammino quindi buona salute a tutti e buona serata you may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday you join us and the world will be as one con me Renato, coordinatore, organizzatore di tutta questa manifestazione questa serata, come sarà? ma io penso un'ottima serata perché le prospettive ci sono tutte innanzitutto devo ringraziare la dissonabilità enorme di tutti i Max Media a voi per quanto riguarda i commenti in TTV vi ringrazio ancora una volta Varese.8 ringrazio la giornalista della Prealpina ringrazio un carissimo amico Davide Boldrin dell'Eco del Varisotto tutte quelle persone che hanno dato come dire lustro a questa manifestazione soprattutto stasera avremo parecchi amici che non arrivano solamente dal nostro paese di Cuveglio arriveranno da Luino, dalla Veno perché la cosa è sentita ecco io spero di cominciare con stasera un tris di ottimi successi perché il risultato è molto forte se si riuscisse ad ottenere veramente l'ecografia prostatica per uomo che è il desiderio che ho nel cuore che mi porta avanti da tanto tempo per cui io ringrazio voi di avermi dato la possibilità di poter dire dai miei occhi quanto desidero che vada bene questa sera ma sono sicuro l'importante è cantare però ecco, grazie per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo cerca più di te per te che metti i soldi e canto a lui che dorme c'è ancora un po' d'amore a chi non sa che far anche per te vorrei morire e Dio morir non so anche per te darei qualcosa che non ho e così e così e così io resto qui a darle i miei pensieri a darle qualche ieri avrei affidato al vento cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì di raggiungere chi grazie a tutti